Sono ormai otto anni che lavoro su questo progetto e è un progetto che nasce dall'idea di trasferire le immagini in un qualche modo sulla carta, sulle scarpe, sulle tele, un po' dappertutto e ho iniziato, affascinato soprattutto dal discorso delle magliette di fare le magliette proprio come prodotto anche molto street prodotto che gira per strada e che la gente può indossare e avevo bisogno per gli spazi che avevo a disposizione di uccidere la serigrafia quindi avevo bisogno di trovare un sistema, di progettare un sistema che potesse funzionare e che potesse darmi la possibilità di avere tante lettere al mio alfabeto perché alla fine poi quello che è diventato è proprio un alfabeto di immagini e ogni timbro è una lettera dell'alfabeto all'oggi penso di avere l'archivio più grande al mondo di timbro nel senso che ne ho disegnati talmente tanti, ne ho realizzati talmente tanti un po' grazie anche al fatto che sono comunque in Benzone in Benzone è un luogo pubblico dove la gente viene, esprime un desiderio e cerchiamo sempre di realizzare insieme ascoltare il cliente mi ha permesso ogni giorno di aggiungere magari qualche timbro in più alla mia collezione perché magari uno voleva una scritta personalizzata voleva un pensiero suo personale, qualche cosa che lo ricordasse il papà piuttosto che lo avvicinasse alla famiglia per cui è tutto entrato a far parte anche di un gioco di parti molto interessante ed è qua che secondo me entra anche la parte un pochettino più pop, un po' più street perché comunque abbiamo intanto cambiato il concetto del regalo perché da noi il concetto del regalo non è compri una cosa sullo scaffale lo impacchetti e lo metti sotto l'albero, lo regali per la laurea, lo regali per il compleanno o per qualsiasi momento, è proprio un lavoro di squadra col cliente che viene con un'idea e noi praticamente diventiamo il braccio che realizza quello che il cliente ha più o meno in testa cercando anche un po' di mettendo dentro poi tutto quello che è anche la nostra esperienza e la mia conoscenza perché poi in tutti questi anni ho fatto questo mi sembrava importante che questa cosa dei timbri venisse fuori e che fosse raccontata che era un po' di mettere in testa